È la Pia Casa di Via Santa Chiara, la sede scelta per ospitare la prima soglia di inciampo in Italia, realizzata dall'artista tedesco Gunther Demning, ideatore nel 1993 delle pietre di inciampo. Installazioni che hanno le dimensioni di un sanpietrino e che hanno il compito di ricordare una singola persona deportata nei campi di sterminio e di concentramento nazisti. Su questa scorta è nata l'idea della soglia di inciampo, che ha l'obiettivo di portare alla luce e di imprimere nella memoria collettiva e nel tessuto urbano un'intera vicenda che ha accomunato un gruppo di persone negli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La Pia Casa fu infatti nel 1944 un terribile luogo di detenzione, una prigione dove i nazisti, con la complicità dei fascisti italiani, rinchiusero centinaia di uomini da deportare nei campi da cui non fecero più ritorno. L'importanza di atti come questo è stata ribadita dal sindaco Tambellini, che ha sottolineato come il momento storico attuale tenda a minimizzare e a volte giustificare le atrocità commesse in quegli anni. Noi ricordiamo con queste azioni il nostro passato, ricordiamo ciò che è stato perché a volte ho l'impressione anche personalmente e soprattutto tra i giovani complici è anche un'azione politica e mediatica che tende a obbliare il passato, a mettere da parte il passato. Complice tutto questo vi sia la dimenticanza di ciò che è stato per il nostro paese. Lo scopo di queste installazioni, ha sottolineato Denning, è quello di mantenere viva la memoria di ciò che, iniziando in Germania con il nazismo, ha coinvolto tutta l'Europa e di mantenerla viva soprattutto nelle giovani generazioni, perché la conoscenza di questi avvenimenti faccia sì che non si ripetano in futuro. L'augurio, ha concluso l'artista, è che altre città prendano l'esempio di Lucca, decidendo di inserire le soglie d'inciampo nel loro tessuto urbanistico e sociale in modo da mantenere attuale il ricordo di quel periodo storico.